Dopo aver analizzato assieme la piramide feudale del potere, articolata su quattro piani, sovrano, vassallo, valvassore e valvassino, andiamo a scoprire come era strutturato anche il resto della società. La popolazione era suddivisibile grosso modo in tre categorie o ordini. Vi erano coloro che combattevano, di cui abbiamo già parlato in quanto si trattava del sovrano, dei nobili, compresi i vescovi, capaci di cavalcare ed impugnare le armi in caso di guerra e dei cavalieri al loro servizio. Vi erano coloro che lavoravano, principalmente contadini, che vivevano e lavoravano nella curtis, ovvero nella proprietà terriera, e artigiani. Infine vi erano coloro che pregavano, ovvero monaci e chierici. Ma facciamo un piccolo passo indietro e spendiamo qualche parola in più sui cavalieri. Innanzitutto chi erano? Erano i figli cadetti, dunque non primogeniti, delle grandi famiglie nobiliari. Non avendo diritto all'eredità e non potendo dunque diventare signori, avevano due possibilità di carriera. Quella delle armi, che potremmo definire militare, e quella ecclesiastica. La prima iniziava all'incirca all'età di sette anni, quando i cadetti venivano affidati dalla propria famiglia ad altri signori, spesso parenti, con i quali imparavano i primi rudimenti della cavalleria, a partire dal cavalcare e governare un cavallo. Attorno ai 14 anni i ragazzi diventavano scudieri, affiancavano cioè un cavaliere adulto col compito di portargli lo scudo e la lancia e di accudire il suo cavallo. Solo a 21 anni il giovane, se aveva svolto diligentemente i compiti che gli erano stati assegnati fino a quel momento, poteva ricevere l'investitura. Ciò avveniva nel corso di una lunga cerimonia ufficiata da un sacerdote. Il cavaliere, per il quale era stato scudiero, lo colpiva leggermente tre volte sulla spalla col piatto della spada dicendo «In nome di Dio, di San Michele e di San Giorgio, ti faccio cavaliere». L'aspirante cavaliere doveva poi giurare sul Vangelo di difendere la Chiesa, i deboli, di fare la guerra ai non credenti, di non ritirarsi mai di fronte al nemico e di essere sempre generoso e leale. Infine, doveva ricevere per l'ultima volta un'offesa senza reagire, ovvero uno schiaffo sulla guancia da parte del suo cavaliere. Come avrete notato dunque, il mondo della cavalleria e quello della chiesa, della fede, erano stretti da un legame fortissimo, indissolubile, ed è proprio su questo rapporto che si baseranno molte delle decisive vicende storiche successive.